Gagliardini, pallone su Pietrella, prova a girarsi Pietrella, non passa, rinvia addirittura Cerbone, da difensore aggiunto adesso. Di nuovo Isidori, altro lancio lungo in area di rigore, lo stacco di Ballini, c'è Pietrella, il destro, rete, rete, rete! Michele! Pietrella! Pietrella! Uno a uno! E l'ha messa il capitano, ancora lui! È sempre lì, è sempre lì Pietrella! Al 46esimo, l'Elvia Recina rimette in parità una partita che si era fatta incredibilmente complicata. Undicesimo centro stagionale di Pietrella, ma decisivo il lavoro sporco in area di rigore da parte di Andrea Ballini. E' lui che la tocca di testa per Pietrella!